signori qui in foresta c'è anche la dolce vita e la dolce vita è un marchio vuol dire garanzia vuol dire vitalità signori alla mia sinistra rosanna falcone alla mia destra la nostra ballerina voglio dire una che si diletta bene nella sartoria ma è la mia coreografa genoa ancora concetta ancora la grande stefania è sposto e poi enza e più tardi in danzanova si serviranno con un gruppo popoloso che sta già per salire sul palco abbiamo l'onore di avere con noi uno dei più grandi percusionisti del mondo ovvero della world music e poi il colloquio eccezionale dal sud america ovvero dal sud al sud se vogliamo definire con il grande maestro delle percussioni non solo in italia ma anche in europa e nel mondo il maestro giovanni imparato per la prima volta sul carcano con gt percusion stanno salendo sul palco una formazione unica del suo genere perché adesso sta per scattare o per scoppiare signore lo spirito della foresta in zipparia non vanno via ma staranno con noi e bussiamoci questa pizzi è con zipparia danzanova e michele mancano su con le mani forse chi balla chi balla chi canta rumore mai mai oh sudino la zaranda oh sudino la zaranda oh sudino la zaranda hey bella 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 su con le mani, forse, forse, fatemi sentire Signore, Sio Pietro 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 Signore, Sio Pietro